Siamo Pasquale, Pasquale Cautiero, e ho costituito Profilo Assicurativo con l'obiettivo di innovare il settore dell'assicurazione. Profilo Assicurativo è una piattaforma tecnologica in grado di trasformare il processo di commercializzazione dei prodotti assicurativi. È costruita su tre grandi pilastri, identità assicurativa digitale, con soldi di gestione del rischio e negozio assicurativo digitale. Grazie a tutti.